L'infezione virale da epatite non riguarda soltanto il virus C ma anche il virus B. Quali sono i progressi che sono avuti negli ultimi anni e come sta andando l'eliminazione di questo virus? Se ne è parlato San Giovanni Rotondo durante un evento Question Marking Epatology che ha cercato di sottolineare tutte le questioni ancora aperte in epatologia, anche la situazione epatite B. Ne abbiamo approfondito l'argomento con la professoressa Maria Buti. La prevalenza di HIV è diminuita in Italia e in Spagna. Quale è la prevalenza di HPV? La prevalenza di hepatitis B è cambiata perché la vaccinazione di hepatitis B è consigliata nei nuovi bambini e adolescenti quindi abbiamo meno popolazione locale con hepatitis B ma stiamo affrontando più di hepatitis B in migrante. Per questo motivo abbiamo un nuovo gruppo rischio che sono migrante di paesi dove la hepatitis B è endemica. Do you have data on comorbidità associati con l'infezione HBV cronica? Abbiamo data on comorbidità associati con l'infezione di hepatitis B perché la popolazione di hepatitis B è infatti che sono più oltre. Questi hanno più comorbidità associati con l'infezione di hepatitis B più diabeto, obesità e NASH che è normalmente associati con una fibrosi più severa. Cosa credo che dovremmo aspettare per la medicazione di poter eliminare l'infezione HBV? Questa è una questione molto difficoltà. Ora ci sono diversi studi in fase 1, fase 2 e anche preclinicali che hanno mostrato un'infezione di efficacia per l'infezione dell'infezione HBV di antigeno. Ma in addition a l'infezione di efficacia, stiamo facevendo un nuovo problema, che è la sicurezza. Con i medici currenti, la sicurezza è eccellente, quindi dobbiamo evaluare la sicurezza con i nuovi medici. Quindi probabilmente in almeno 5 o 6 anni stiamo aspettando per i nuovi medici. Grazie a tutti.